Aeroporto Peretola, dibattito in consiglio, nuova polemica in aula sull'ipotesi di ampliamento dello scalo aeroportuale fiorentino. Una mozione della Lega sarà presentata nella prossima seduta dell'Assemblea regionale. Premio Innovazione, ecco l'edizione 2024, presentato il riconoscimento che mira a valorizzare l'innovazione e la ricerca delle aziende della nostra regione. In consiglio regionale si è tornati a parlare dell'ampliamento dell'aeroporto fiorentino di Peretola, occasione l'annunciata presentazione di una mozione da parte del consigliere leghista Giovanni Galli in merito al progetto di sviluppo e agli interventi necessari al superamento dell'inquinamento acustico. C'è stata polemica tra maggioranza ed opposizione. A seguito del dibattito aperto sin aula, la presentazione del documento è stata poi rimandata alla prossima seduta. Allora, nel 2009 quando sono entrato in politica a Firenze ero convinto, decisamente convinto, che l'aeroporto andasse messo in sicurezza perché così com'è sappiamo bene che comunque ha delle difficoltà a prestare servizi. L'atto che ho presentato oggi è che dopo 15 anni credo che qualcuno abbia bisogno di avere delle risposte e siccome si sta facendo uno scaricabarile da una parte all'altra e nessuno si prende e si assume delle responsabilità, io credo che noi in qualità di consiglieri regionali in base alla risposta che ci è arrivata dalla Commissione del Ministero abbiamo un obbligo che è quello di disegnare il quadro di riferimento dell'area della quale stiamo parlando. Perché? Perché all'interno di quest'area non c'è soltanto l'aeroporto. Ci saranno degli interventi del piano strutturale di Firenze, del piano strutturale di Prato, dovrà passare la tramvia, dovrà essere ampliato il polo scientifico, dovrà essere riconosciuto a Unipol, che ha vinto la causa contro il Comune di Firenze, di realizzare abitazioni per 2.000 persone, comprensive poi dopo di spazi pubblici, supermercati e quant'altro. Per cui credo che in tutto questo dire a Toscana Aeroporti e ENAC preparateci il master plan dell'aeroporto sia fuori luogo. Perché? Perché proprio la Commissione ci ha detto prima dateci il quadro completo dell'area, dopodiché secondo dello spazio che c'è disponibile ci rivolgeremo a Toscana Aeroporti per dirci come deve essere fatto l'aeroporto. Siccome prima vediamo le vigne, si pensa al vino, si pensa a un'opera che poi ci siamo accorti mancano i fondi e allora il vino non è più buono, è bene lasciarlo perdere e allora si pensa alle cupole, si pensa ad altro. Ma le procedure per arrivare a compimento e per dare sollievo soprattutto a quegli abitanti che da 30 anni aspettano delle risposte non è quello. E allora la procedura che io ho presentato in aula non è che io sono contro l'aeroporto, io vorrei che questo aeroporto fosse messo in sicurezza e dare delle risposte agli abitanti di Brozzi, Cuaracchia e di Peretola che da tre stanni lo stanno aspettando. Questa procedura porterà avanti l'aeroporto per i prossimi 30 anni, per cui c'è qualcuno che c'è nato e ci morirà purtroppo con gli aerei che li passa sopra la testa. Io credo che la notizia di oggi sia un'altra però. La notizia di oggi è che l'opposizione si è spaccata su un atto presentato dall'opposizione stessa. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in ordine sparso con Forza Italia che ha mantenuto la posizione storica attraverso Marco Stella a favore del nuovo orientamento della pista di Peretola. Galli che a parole confermava di essere favorevole ma negli atti in realtà lasciava intendere tutt'altro. Petrucci che ha fatto un intervento direi un po' da primi anni 2000 in cui si metteva in contrapposizione, una contrapposizione che non c'è, lo scalo di Firenze con lo scalo di Pisa. I dati ci dicono altro. I dati ci dicono che il polo toscano composto da Firenze e da Pisa sta facendo segnare livelli pre-Covid o addirittura di più a livello di numero di passeggeri. Allo stesso tempo, non ci nascondiamo sotto la sabbia, è necessario su entrambi gli scali effettuare degli investimenti come quelli in programma, a partire dalla pista dell'aeroporto fiorentino. Ma senza dimenticare ovviamente i lavori sui terminal che sono altrettanto importanti perché chiaramente un aeroporto è composto sia appunto da dove decollano gli aerei sia da dove si svolgono tutte quelle procedure che vengono fatte appunto prima di montare sui velicoli. Quindi la notizia di oggi, in modo di vedere, è un centrodestra che in consiglio regionale è totalmente in ordine sparso su un tema che è un tema centrale dell'agenda di governo di questi cinque anni, di questa legislatura che era nel programma di mandato e che adesso è in attesa evidentemente di ulteriori sviluppi da parte dei ministeri. Sì, abbiamo avuto una discussione durata circa tre ore in consiglio proprio sull'aeroporto di Firenze. Noi siamo favorevoli all'aeroporto di Firenze, favorevoli al potenziamento di Firenze e all'aeroporto di Pisa. Uno non esclude l'altro, hanno degli obiettivi diversi. Il fatto è che ad oggi, non solo non abbiamo, sono 50 anni che parliamo dell'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Firenze è ancora un'incognita, ma negli ultimi dieci anni, questo è l'elemento che vorrei far rilevare, negli ultimi dieci anni abbiamo depotenziato sia l'aeroporto di Pisa che l'aeroporto di Firenze. Purtroppo non voglio, in buona parte di questa discussione anche oggi in consiglio, non voglio sentirselo dire perché fanno dei paragoni autocelebrativi come sempre fanno fra di loro, quindi fra l'aeroporto di Pisa e l'aeroporto di Firenze e non hanno una visione esterna, quindi cosa succede nel mondo? L'aeroporto di Pisa e l'aeroporto di Firenze sono stati depotenziati, noi in Toscana ad oggi, se vogliamo avere certezza di partire, se vogliamo avere anche dei voli intercontinentali, usiamo l'aeroporto di un'altra regione, usiamo l'aeroporto di Bologna. Quindi il risultato, perché poi mi piace parlare di risultati, al di là di tutte le argomentazioni politiche, sappiamo che molti sono in campagna elettorale, quindi qualunque dichiarazione viene utilizzata per questo, però quello che mi preme rilevare è che noi ad oggi in Toscana le infrastrutture che vogliono dire semplicemente qualità di vita del cittadino, minor costo, minor tempo, per quanto riguarda l'aeroporto, lasciamo perdere il resto, ma per quanto riguarda l'aeroporto, ad oggi siamo profondamente indietro, sempre peggio, non solo riferimento a 50 anni fa, ma riferimento agli ultimi 10 anni. Ne Pisa, ne Firenze, sono aeroporti all'altezza della nostra regione. In realtà l'aeroporto della Toscana, il mondo ha fame di Toscana, questo è un dato oggettivo, lo vediamo con le decine, le centinaia, i milioni di turisti che arrivano in Toscana ogni anno, sempre di più, anche fuori da quelli che erano periodi classici delle vacanze, cioè i mesi estivi. Il mondo ha fame di Toscana, la Toscana ha bisogno di un aeroporto intercontinentale, in questo momento in Toscana non c'è un solo aereo che atterra o che decolla in un viaggio intercontinentale dall'aeroporto toscano. Questo rientra nella fallimentare strategia, nella fallimentare gestione infrastrutturale che la Giunta Gianni e chi lo ha preceduto ha avuto in questi anni, lasciamo stare Fipilì, Firenze-Siena, corridoio tirrenico e tutto il resto. Sull'aeroporto è la stessa cosa, negli anni si è pian piano indebolito l'aeroporto di Pisa senza che si rafforzasse quello di Firenze. Nel frattempo sta crescendo sempre di più l'aeroporto di Bologna che sta diventando, ahimè, sempre più spesso l'aeroporto di pertinenza per chi viene e parte dalla Toscana e va nel resto del mondo. La Toscana ha bisogno di uno intercontinentale. Dalla Toscana si deve poter andare e arrivare non rispetto a Monaco, Berlino, Parigi o Barcellona, ma con il Nord America, con gli Stati Uniti, con il Sud America, con l'Asia, con l'Africa. La Toscana deve poter parlare al mondo, deve poter dialogare col mondo anche attraverso i cieli, in questo momento non lo sta facendo. Chiudo con una riflessione, una Marcord Amaro, da Pisa in sei ore si andava a New York, c'era il Pisa a New York fino a poco tempo fa. Adesso si va probabilmente a Londra e non più lontano di lì. Italia Viva rimane il partito favorevole all'ampliamento della pista di Peretro e di Firenze, serve ampliare lo scalo aeroportuale di Firenze, serve migliorare, serve favorire un interscambio con le relazioni compise, serve una relazione internazionale per quanto riguarda la nostra città capoluogo di regione. Rimaniamo a favore, convintamente a favore, dell'ampliamento della pista di Peretro e dello scalo aeroportuale di Firenze. Una discussione che troppe volte ritorna sugli stessi canoni del dibattito in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre avuto la nostra posizione politica. Siamo coerenti con l'ampliamento e con la possibilità di dare alla città di Firenze un nuovo aeroporto. È stata presentata a Palazzo del Pegaso l'edizione 2024 del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, nato per sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese toscane e per promuovere l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. È una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso, non perché ormai sette anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si manda un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono, sono al fianco di chi vuole costruire innovazione, di chi vuole costruire imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del domani. Abbiamo deciso ormai da qualche anno di tornare a dare il nome al premio Innovazione premio Vespucci perché ricordiamo un grande toscano che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare territori inesplorati, bisogna avere la capacità di trovare strade nuove per costruire un futuro migliore. Sono felice che quest'anno, e ringrazio Confindustria, un partner eccezionale con cui stiamo sviluppando insieme ormai da diversi anni il premio Innovazione e ringrazio Paola Castellacci per aver dato la disponibilità a presiedere il comitato che valuterà le proposte che arriveranno. E a loro davvero voglio dire grazie perché insieme stiamo provando anche a mandare dei messaggi positivi. Penso al tema della sostenibilità e dell'inclusione sociale. Questo dovrebbe essere il modo con cui si costruiscono anche le politiche industriali del nostro territorio, in cui le politiche economiche perseguono gli obiettivi di una regione che si pone, mi scusate il gioco di parole, l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Sosteniamo con forza, come avete già sentito dalla Presidente, che è di Confindustria, la partnership con la regione per questo premio. È la settima edizione. Siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possono nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese. E anche questo è una parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG e quindi molto importante, è un tema che dobbiamo tutti portare avanti, perché dobbiamo andare in quella direzione. Ci auguriamo che ci siano tante presenze come il passato e progetti importanti, perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione. Grazie. Silvia Ramondetta, Presidente del Premio Innovazione Toscana. Oggi presentiamo la nuova edizione del Premio Regionale Innovazione Toscana, un'iniziativa che presiedo dal 2017 sin dall'inizio e che quest'anno giunge alla sua settima edizione. Lo fa con alle spalle risultati molto importanti, che peraltro sono stati particolarmente acquisiti da quando Confindustria Toscana ha confermato la partnership strategica con il Consiglio Regionale. Il premio è stato organizzato dal Digital Innovation Hub Toscana. I risultati sono quelli per cui abbiamo portato alla luce, soprattutto in questi ultimi anni, tantissimi progetti, per un totale di 350 progetti. Abbiamo premiato oltre 60 imprese start-up innovative che in questi anni hanno avuto occasioni tangibili di crescita, sviluppo e visibilità. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere questa iniziativa e quindi il premio anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio Regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale. Andremo a premiare imprese e start-up innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Da oggi apre il bando che sarà aperto per un mese fino al 12 novembre prossimo, al quale si partecipa in maniera molto semplice. Si va sul sito del premio, premio Innovazione Toscana, alla sezione bandi. Si scarica il bando 2024, si partecipa a una delle quattro sezioni previste dal premio, oltre alla sezione speciale Innovazione e Sostenibilità Sociale, le tre sezioni che confermiamo anche quest'anno. Start-up innovative, brevetti, ricerca, sviluppo e innovazione digitale sostenibile. Partecipando al premio che è un bando aperto a tutte le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni, alle start-up innovative di tutta la Regione Toscana, si concorre a opportunità molto concrete, quindi a contributi fino a 15 mila euro anche più piccoli di 5 mila euro e soprattutto a occasione di visibilità. Quest'anno avevamo preso un impegno anche negli anni scorsi, inseriamo oltre a questa novità della sezione Sostenibilità Sociale anche delle migliorie da un punto di vista di organizzazione e di procedure e quindi partiamo già oggi con le attività che vedranno anche la costituzione della commissione giudicatrice, quindi di questo organismo molto importante che è formato da illustri e autorevoli esponenti del mondo accademico e industriale che andranno a giudicare i progetti e che entro la prima metà di dicembre daranno subito risultato a tutte le imprese che ci auguriamo tante che possano e vogliono partecipare a questa occasione. C'è già tanta curiosità e quindi tanta aspettativa per questo importante premio, poi appunto questo è il primo anno in cui viene annunciato appunto il presidente della commissione giudicatrice e quindi adesso inizierò a lavorare appunto per comporre al meglio questa giuria. Siamo tutti sulle spine per vedere un po' di cosa si parla quando si tratta di innovazione e sostenibilità qui in Toscana.